Sia lodato Gesù Cristo Ciao fratelli e sorelle di questa bella comunità del Vangelo! Eccoci qui al Vangelo di oggi con fra Stefano, il Vangelo del giorno giovedì 18 luglio San Federico Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! Preghiamo O Dio, che mostri agli erranti la luce della tua verità, perché possano tornare sulla retta via, concedi a tutti coloro che si professano cristiani, di respingere ciò che è contrario a questo nome e di seguire ciò che gli è conforme. Per Cristo nostro Signore. Amen! Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo Gloria a te o Signore In quel tempo Gesù disse «Venite a me voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio gioco sopra di voi e imparate da me che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio gioco infatti è dolce e il mio peso leggero». Parola del Signore Lode a te o Cristo La vita a volte è pesante, è stancante, ci può lasciare senza energia e senza entusiasmo, e in questi casi ci può venire il dubbio che sia Gesù a caricarci di questi pesi. Forse pensiamo che sia questa la croce che lui ci ha dato da portare, ma non è così, questa è la croce che viene data dal mondo, questa è la croce che è una conseguenza anche delle nostre fragilità e dei nostri errori. Gesù non cerca in alcun modo la nostra sofferenza, anzi cerca esattamente il contrario, cerca il nostro sollievo, il nostro benessere, nel senso più vero del termine, che è il bene non solo del corpo ma anche dell'anima. Tuttavia, dobbiamo riconoscere che c'è un piccolo peso che viene anche da Gesù, che è quello di imparare da lui ad essere miti e umili di cuore. Questo è il peso leggero che lui ci dice di prendere per trovare ristoro. È una cosa straordinaria, perché i pesi di solito appesantiscono, il suo peso invece ci alleggerisce. Ma se pensiamo, a questo a volte capita così anche nella vita, ci sono alcuni piccoli sacrifici che, se li facciamo volontariamente, ci permettono di stare meglio. Pensate per esempio dal punto di vista dell'alimentazione, se fai il piccolo sacrificio di mangiare in modo equilibrato, poi ne hai in contraccambio un grande vantaggio per la tua salute. Ecco, una cosa simile avviene anche per l'anima, se accetti il piccolo sacrificio di essere umile di cuore, il tuo cuore starà meglio. Ma è un sacrificio essere umili? Sì certo, dobbiamo sacrificare l'orgoglio, e non è sempre facile, ma è una scelta che ci alleggerirà immensamente la vita. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. LA BENEDIZIONE PER TE E PER LE PERSONE CHE PORTI NEL CUORE Il Signore sia con voi Vi benedica Dio onnipotente Padre Figlio e Spirito Santo. Amen. E anche questo giovedì come sempre preghiamo per i fratelli e le sorelle che soffrono nello spirito e nel corpo, per i loro famigliari, e le persone che si prendono cura di loro. Grazie davvero per le vostre preghiere e ciao ciao Abbi cura di te!